La signora a me credi? Temo di sì. Il professore non è abituato ad avere dei bambini nella sua casa e quindi ci sono alcune regole da seguire. Non si urla, non si corre, non si fa lo scivolo sui corrimano, non si toccano gli oggetti antichi e soprattutto non si disturba il professore. 6, 7, 98, 99, 100. Pronti o no, vengo a cercarvi! Impossibile! Impossibile! Noi, sono tanti, 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 Grazie a tutti.